Sul porto di Carrara noi abbiamo chiesto che il porto di Marina di Carrara rimanga un porto toscano e che abbia una prevalenza di destinazione turistica, abbiamo bisogno che il porto venga valorizzato per quello che è e che non si facciano nessun tipo di ampliamento, che sia destinato a una parte di questo porto a attività commerciali, quindi a non esclusiva valenza turistica, perché abbiamo un portante in realtà come la General Electric, come una realtà dei cantieri nautici che hanno bisogno dei loro spazi. Però sia il porto di Marina di Carrara come il porto toscano ha prevalenza turistica.